Intanto vi invito per 10 minuti soltanto a lasciare i cellulari, alzare la testa dei computer e dei cellulari e di venire insieme a me a bordo di una nave da crociera e andiamo a farci una croceretta di 10 minuti perché tale al massimo sarà il mio intervento. Questo qui è un progetto che si chiama iCabin, è stato un progetto finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti noi abbiamo presentato dei progetti a Fincantieri, Fincantieri rappresentati al MIT, iCabin è uno dei progetti che ha vinto questa presentazione di progetti e questi sono gli istituti partecipanti del CNR, vedete c'è l'IST, l'IT, l'ISTEC, l'IEIT e l'ITIA che ora si chiama a stima. Venite insieme a me, facciamo questa crociera su una cabina che è leggermente inquietante perché è super tecnologica quindi è estremamente interessante da un punto di vista tecnologico, un pochino forse meno interessante se uno ci deve davvero fare una crociera dentro. Quando noi facciamo una crociera generalmente dobbiamo fare una valutazione sul costo di una crociera, sul tipo di servizi che la crociera mi offre, che tipi di escursioni e tutto questo qua alla fine diventa quello che io dico, sì ci sono stata bene in quella crociera oppure ci sono stata male quindi quello che si chiama il comfort di una crociera. Bene, tutto questo progetto gira intorno al concetto di comfort, comfort che si esplica in varie forme e quindi un comfort fisico, un comfort come sensazione a bordo della crociera e un comfort anche per i servizi. Allora, quello che è stato fatto è stata una serie di monitoraggi, quindi tutta la cabina, abbiamo tuttora su Atriesti una cabina prova, proprio una cabina di una nave presa e montata lì, che è stata tutta quanta sensorizzata con una serie di sensori di cui brevemente vi accenno, dopodiché ci sono state sviluppate anche delle applicazioni personalizzate. Il concetto che sta alla base di tutto questo progetto è che tutta la cabina è personalizzata per quella persona che ci va dentro, quindi i servizi o i tipi di soluzioni che vengono adottate nella cabina che ho prenotato io non sarà uguale a quella dei servizi della cabina di Montani che ha prenotato un'altra crociera insieme a me. Quindi la personalizzazione come viene fatta? Viene fatta con delle registrazioni che l'utente della cabina fa al momento che monta sulla nave e fa il check-in. Quindi verranno chieste delle informazioni e sulla base di questo la cabina si personalizza su quella persona. Dopodiché sono state sviluppate delle applicazioni, sono state sviluppate delle... E poi è stato fatto uno studio sul comfort, è uno studio staccato dalla sensorizzazione della cabina, uno studio fatto su cosa impatta veramente a bordo di una cabina sul passeggero. Lo studio riguarda una combinazione di fattori di disturbo, che può essere l'intensità della luce, i rumori, le vibrazioni e tutto quanto. Allora, il monitoraggio della cabina fondamentalmente sono stati installati tutta una serie di sensori eterogenei, quindi abbiamo utilizzato diversi protocolli di comunicazione e formato di dati, e sono stati installati anche degli attuatori personalizzati sulla base delle indicazioni dell'utente della cabina. Quindi se io sono un utente che ha voglia di avere una musica particolare quando mi sveglio, oppure il colore delle luci della cabina particolare quando mi sveglio, questo avviene. Tutti questi dati che vengono generati a bordo della cabina, tuttora il sistema è funzionante, fino adesso abbiamo raccolto 6 milioni di dati, quindi è una grande quantità, vengono passati attraverso un middleware, che è stato il core dello sviluppo della parte sensoristica, che è un middleware di comunicazione sviluppato apposta per permettere l'integrazione e il passaggio di questi dati eterogenei. A bordo della cabina, di questa cabina magica, sono stati installati dei sensori ambientali, temperatura, umidità, presenza, eccetera, eccetera, dei sensori per la qualità del sonno, quindi dei sensori che sono stati messi in modo assolutamente trasparente per l'utente sotto il materasso, e che mi dicono quante volte io mi sono girato, cioè che tipo di sonno ho avuto, agitato, tranquillo, sereno, eccetera, eccetera. Ci sono state fatte poi, quindi tutta una serie di sensori, e tutti questi dati vengono convogliati, arrivano a un gate dove c'è un risoner che interpreta sulla base di ontologie che sono state sviluppate apposta per quel tipo di passeggero e quel tipo di cabina, sviluppa tutta una serie di attuazioni automatiche che avvengono nel momento in cui il passeggero si trova in cabina o nelle vicinanze della cabina, perché ci sono anche degli access point fuori dalla cabina che permettono di capire quando il passeggero sta per ritornare in cabina. Una di queste cose è tipicamente, per esempio, lascia la cabina come trovi, cioè io esco, non tocco nulla, la cabina capisce che non c'è più niente dentro, non c'è più nessuno dentro, si spenge tutto quanto senza dover levare quelle schedine come si trova negli alberghi, e quando la cabina capisce che io sto rientrando in cabina perché c'è un'approssimazione alla cabina, io la ritrovo esattamente com'era. Questo ha comportato un grosso risparmio energetico che viene quantificato e displayato su una dashboard. A questo sistema c'è anche un sistema di energy harvesting, cioè dalle vibrazioni si possono ricavare dell'energia che è stata poi utilizzata a scopo dimostrativo per far funzionare un sensore di temperatura. Il sensore chiaramente non era collegato a niente, né pile né corrente elettrica, veniva semplicemente alimentato da questo sistema di recupero di energia dalla parte delle vibrazioni. Sono state sviluppate poi tutta una serie di applicazioni, che qui vedete listate, fra cui anche l'applicazione di mobile social networking, perché non vogliamo privare naturalmente nessuno, quando uno è a bordo cabina, di poter condividere le proprie esperienze, le proprie immagini, le fotografie e tutto quanto. E ricordatevi che sulle cabine, che sulle navi da crociera generalmente non c'è internet, o se c'è è a prezzi esorbitanti. Quindi qui ci siamo mossi nell'ottica che internet non ci sia. Quindi ci sono delle applicazioni che dicono, per esempio, supponiamo che io debba iniziare a decidere quale tour voglio fare, decido di vedere in tridimensione tutte le escursioni più significative che andrò a fare. Quindi questo è ancora un fattore che mi permette di scegliere un tipo di crociera piuttosto che un altro tipo di crociera. Quando una volta che sono a bordo della nave, con delle applicazioni sviluppate apposta, io posso muovermi all'interno della nave sapendo che voglio andare dal punto A al punto B e mentre cammino lungo la nave mi si aprono delle finestre tridimensionali che mi fanno vedere in realtà aumentata tutto quello che io trovo lungo la strada per andare nella nave verso la mia cabina o nel punto di destinazione. Questa applicazione qui, di cui adesso vi dico due parole, è un'applicazione che all'inizio può essere inquietante perché diciamo come vado a fare una crociera, voglio stare bello tranquillo e rilassato, mi devo mettere un braccialetto, mi devo mettere una fascia per misurare... Ho già finito? Madonna! Vabbè, insomma, tutta una serie di cose per misurare come sto a bordo, come sto, come sta la mia salute. In realtà questa applicazione si è rivelata molto interessante ed è uno dei punti di forza del progetto perché un'inchiesta che è stata fatta soprattutto in America ha dimostrato che la maggior parte delle persone che va in crociera, soprattutto crociere di lungo raggio, sono persone che hanno grossi problemi fisici, cardiopatici, eccetera, o di circolazione perché sono persone anziane. Quindi il sentirsi, come dire, in qualche modo monitorati e protetti durante tutta la crociera, naturalmente chi vuole può, l'applicazione fornisce l'opportunità di decidere se installarla sul proprio cellulare oppure no, se viene installata e viene accettato di utilizzare una particolare bilancia, un particolare fascia e un particolare braccialetto potrà essere monitorata la persona tutto il giorno e nel caso che venga riscontrato qualche cosa di anomalo vengono mandati dei messaggi non allarmanti alla persona oppure al medico a bordo della nave. Quello di mobile social networking ve l'ho già detto, ci sono dei motivi perché Twitter e Facebook non vanno bene, perché potrebbero non essere disponibili a bordo se non a prezzo molto caro e d'altra parte non è richiesto che qualcuno sia privato di queste funzioni sociali. La gabina è tuttora funzionante, qui lascio perdere gli aspetti tecnici, la gabina è tuttora funzionante, è installata su presso l'Università di Trieste, è una gabina completamente attiva. Il bello di questo sistema è che può essere visto nella sua totalità, quindi un sistema in cabin nella sua complessità, oppure può essere anche visto come tanti piccoli sistemi che possono essere di interesse separatamente, quindi solo il monitoraggio del sonno, oppure solo il monitoraggio della gabina, oppure solo le applicazioni, oppure tutto nella sua completezza. Il comfort combinato è lo studio che è stato fatto sulle persone, su una serie di cinquantina di volontari che sono stati messi dentro la gabina e che hanno subito delle variazioni di intensità di luce, di rumore e di vibrazioni in modo tale da capire che cosa veramente poteva disturbare, qual era l'effetto della combinazione dei fattori di disturbo, perché fino a oggi tuttora non esistono studi di questo tipo sugli effetti combinati, ma esistono soltanto studi separati, cioè l'effetto delle vibrazioni sul fastidio che possono indurre, oppure l'effetto del rumore. E questo studio qua, voglio dire, è un punto di partenza soprattutto per gli armatori, per una nuova tipo di categorizzazione dei fattori di disturbo. Grazie. Grazie.